Terminati da parte della provincia di Salerno i lavori di manutenzione e di adeguamento strutturale ed impiantistico dell'Istituto di Istruzione Superiore Besta Coloriosi di Battipaglia. L'importo complessivo è di circa 300.000 euro. L'intervento riguardava anche la realizzazione di una scala esterna in acciaio per migliorare l'esodo di emergenza dei tre piani dell'edificio scolastico. Tutte le attività sono state coordinate dal settore edilizia scolastica e patrimonio diretto da Angelo Michele Lizio con il supporto del consigliere provinciale delegato dell'edilizia scolastica Antonio Sagarese. Abbiamo concluso i lavori, dichiara il presidente della provincia Michele Estrianese all'Istituto di Istruzione Superiore Besta Coloriosi di Battipaglia per un importo complessivo di euro 300.000. L'intervento di manutenzione e miglioramento strutturale riguardava anche la realizzazione di una scala esterna in acciaio per migliorare l'esodo di emergenza dei tre piani dell'edificio scolastico. Ringrazio la Regione Campania, in particolare il presidente Vincenzo De Luca, perché anche questo intervento al Besta Coloriosi è un finanziamento regionale. Ringrazio la Regione Campania, in particolare il presidente Vincenzo De Luca, perché anche questo intervento al Besta di Battipaglia è un finanziamento regionale. Grazie all'attenzione che la Regione dedica ai nostri territori abbiamo potuto avviare i necessari lavori di manutenzione delle nostre scuole per un adeguato diritto allo studio in sicurezza. L'emergenza epidemiologica in corso a concluso estrianese ha colpito molti comparti, tra cui tutto il mondo della scuola, con problemi enormi ricaduti soprattutto sui giovani. A loro, alle loro famiglie e tutta la comunità scolastica, formata da dirigenti scolastici, dagli insegnanti e tutti gli operatori della scuola, va la nostra avvicinanza come provincia. Il diritto allo studio è uno dei cinque diritti fondamentali individuati dall'Unione Europea e tutelarlo è una nostra priorità soprattutto in questo momento. Grazie a tutti.